Ben trovati ai nostri telespettatori, oggi il viaggio nel voto in Irpini approda Santa Lucia di Serino, il comune della Valle del Sabato dove si schierano due compagini, quella di Ottaviano Vistocco che è il sindaco uscente ed è in studio qui con noi, contro la compagine di Palmiro Savino. Ottaviano Vistocco è a capo di una coalizione civica denominata Luciani 5.0. Ecco sindaco io partirei proprio da questo dato, è un nome un po' sui generis per una lista candidata alla guida del territorio a queste amministrative. Luciani 5.0 perché? Innanzitutto grazie per l'invito, ne sono onorato. Luciani 5.0 perché gli abitanti di questa nostra meravigliosa comunità di Santa Lucia siamo Luciani. Quindi noi 5 anni fa abbiamo fatto insieme all'altro gruppo questo proposito, dice noi dobbiamo valorizzare la comunità, dobbiamo prendere il meglio e da dove partire? Dai Luciani. Dai Luciani allora 4.0 perché era l'evoluzione tecnologica di quel periodo, adesso con questa nuova squadra che io ringrazio perché non è stato semplice in questi 5 anni e io ho avuto sempre dentro di me quel essere servitore dello Stato, quello applicare le regole fino in fondo e molte volte chi fa l'amministratore lo sa, essere ligio alle regole ti porta a dire tanti no e perdere tanto con sé. Però trovare una squadra e non solo quelli che sono candidati con me ma soprattutto gli altri della comunità, persone per bene che mi hanno invogliato nonostante la mia reticenza perché nell'ultimo periodo per problematiche varie anche personali non volevo continuare, questa cosa mi ha reso di un forte orgoglio e ho detto come dice un amico mio medico, quando credi in Cristo, Cristo a volte ti dà il privilegio del sacrificio. In questo caso ho accettato con orgoglio e con amore per la mia comunità. Bene Sindaco, prima parlavi appunto di regole e di una tua tendenza proprio al rigoroso rispetto delle regole e non è semplice poi che farlo durante un'amministrazione comunale che è ricca di insidie e anche di potenziali abusi, ecco, è un dato concreto, un dato di fatto e non sono poche le amministrazioni che poi ricadono in queste problematiche. Possiamo ricordare anche il tuo lavoro, ecco, una tua presentazione per il pubblico televisivo? Sì, io sono un dipendente dell'amministrazione civile dell'interno e svolgo le mie funzioni di contabile presso la prefettura di Avellino, quindi è un servizio che a prescindere, ma io lo sento come cittadino, quello di essere un servitore di questa nostra Repubblica. Senti, ci puoi presentare questa lista Luciani 5.0, da dove riparte, anche magari confrontandola con quella che cinque anni fa ha vinto le elezioni? Quella di allora fu una lista, diciamo così, che quel gruppo mi chiese di ottemperare, come dire, un'esigenza di quella comunità, dicevo vogliamo rinnovare, vogliamo metterci al servizio. Quindi in quel momento ho scelto insieme a loro di iniziare questa avventura. L'ho fatto però, io devo essere sincero, perché io ritengo che la nostra comunità ha un potenziale enorme, che viene dal 1600. Noi siamo una comunità che ha forse tratto di cristianità. Nel 1600 un cappellano dell'Ordine di Malta, antenato della famiglia Moscati, perché poi decise di implementare le bellezze di Napoli nel questo suo piccolo borgo nativo. E quindi noi abbiamo una bellezza enorme, culturale, artistica, di valori. Infatti questi valori hanno determinato e hanno dato così quel frutto meraviglioso che è Moscati in Amoscati. E io in quel periodo c'era un parroco, Don Luca Monti, non il Pino, che si è ritrovato giovane nella comunità e decise insieme alla curia di valorizzare questa figura. Come? Acquistando i beni che erano appartenuti a Moscati. Quindi il palazzo storico. Per proprio dare come formazione per il mondo questa figura. E io con quel gruppo ho deciso, guardate, io lo faccio per uno solo motivo. Perché credo in questi valori, credo in questa comunità e mi candido per valorizzare questo essere Luciani. Ecco, sindaco, anche per chi naturalmente non sa, non conosce la storia, va ricordato che San Giuseppe Moscati, a cui tu hai appena fatto riferimento, è originario di Santa Lucia di Serino e a Santa Lucia di Serino si conservano le spoglie. Le spoglie stanno a Napoli, perché la famiglia paterna del santo e di Santa Lucia, però il papà era magistrato, quindi per il lavoro è stato costretto a trasferirsi continuamente. Quindi il santo è nato a Benevento, ha esercitato la professione di medico a Napoli, perché poi stando lì faceva il professore, il docente, uno scienziato sublime, una mente guidata da una fede profonda e quindi lui, ci tengo a sostenere, non si prendeva cura solo della malattia, lui prendeva cura dell'ammalato, l'umanizzazione della sanità, perciò è importante, noi sentiamo proprio in questo vuoto di valori che riscontriamo a livello mondiale, avere queste figure a cui ispirare i giovani è importantissimo, è importantissimo, perciò noi siamo orgogliosi che il DNA di Moscati venga dalla nostra comunità Luciana. Alberto Sindaco, sei eletti nei prossimi cinque anni alcuni capisaldi della tua piattaforma programmatica, quale Santa Lucia immagini da qui a cinque anni naturalmente, come dicevamo prima, sei eletti? La mia elezione, se dovesse essere ratificata e quindi in continuità con quello che abbiamo cercato di portare a realizzare in questo quinquennio, che non è stato semplice, guardate, tralluvioni, covid, ma nonostante tutto non ci siamo stancati, non ci siamo abbattuti, perché noi dovevamo portare avanti quel sogno, perché le cose belle nascono dai sogni, bisogna pure avere il coraggio di poterli realizzare, quel sogno. E noi abbiamo trasformato la comunità da vocazione turistica turistica, naturalmente dobbiamo creare altre opere, abbiamo attinto ai fondi per le progettazioni che adesso stiamo portando in via definitiva ed esecutiva, per poter poi rimodulare la comunità che ancora non era pronta, perché noi questo tratto turistico nel passato non è che è stato trascurato, probabilmente non ci sono stati gli elementi giusti per realizzarlo. Noi questi abbiamo messo le basse, senza tralasciare quello che era l'ordinario, perché abbiamo dovuto, nonostante le difficoltà, soprattutto io ho preso un comune che aveva le difficoltà del bilancio, abbiamo risanato il bilancio, non abbiamo più debiti, abbiamo ripianato il disavanzo, non abbiamo più disavanzo, non utilizziamo anticipazioni di caso, quindi è stato veramente un'opera, nonostante la piccola comunità, utilizzando risorse dello Stato, intercettando fu, e nello stesso tempo tenete conto, non abbiamo aumentato le tasse, anzi, approvando il PUC che molti terreni sono diventati edificabili e ci sia che abbiamo permesso il lusso di abbassare il valore veniale ai fini dell'Imu, quindi abbiamo abbassato le tasse, per quanto riguarda quindi la tassazione. Proprio su questo punto è un punto molto importante poi, perché nei piccoli comuni è sempre difficile tenere in equilibrio i conti. Se sempre naturalmente, se eletti nei prossimi cinque anni, da un punto di vista proprio delle scelte di bilancio, continuerete ad andare in questa direzione, quindi le tasse continueranno ad avere questo trend, che è un trend sicuramente meno impattante possibile sui cittadini, o pensate ad altre tipologie di scelte? Faremo sicuramente, dobbiamo, anzi, proprio per poter mantenere l'equilibrio di bilancio, non aumentare le tasse. Stiamo costruendo dei presupposti per portare forme di attrazione all'interno della comunità. Elementi produttivi. Tenete conto che Santa Lucia e io mi sono fatto artefice di un progetto che coinvolge tutta la Regione Campania, Sentieri d'Acqua e Santi. Ho avuto l'onore e il piacere, grazie anche all'assessore al turismo Felice Casucci, di presentare questo progetto alla Borsa Internazionale del Turismo, ma è un progetto che ringrazio gli altri colleghi sindaci, le altre comunità che hanno aderito con entusiasmo e mi stanno vicino. Questo è un progetto che si dà la possibilità di partire da Santa Lucia e arrivare alla piscina Mirabilis e collega tutti i comuni e le realtà storiche e culturali che ritroviamo sull'Acquedotto e Augusteo. E io ho scelto proprio questo perché il nostro tatto caratteristico è l'antichità con l'imperatore e quindi con Augusto e con Cristo. I due elementi che hanno cambiato il mondo e i due elementi sono convinti che cambieranno il mondo dal punto di vista sicuramente economico, ma in particolar modo dei valori che abbiamo tanto bisogno, tanta eredità, tanta eredità di questi valori e questo vuoto immensa. Noi utilizzando questi tratti, queste due figure straordinarie, perché tutte e due volevano costruire un mondo per unirlo e portare la pace, ma soprattutto il benessere. Certo, Sindaco. Concludiamo con un appello al vuoto. Naturalmente si è capito che nella tua visione l'aspetto identitario del Paese è fortemente legato poi anche alla storia, alla cultura, agli elementi che provengono dal passato, sono fondamentali anche nella prospettiva futura di crescita del Paese. Ecco, come dicevo, concludiamo con un appello al voto. Perché ai cittadini di Santa Lucia tu chiedi il consenso? Perché votare Ottaviano Vistocco? Perché noi abbiamo una Ferrari, noi abbiamo, ma non solo noi, ma anche l'Irpina, noi abbiamo una terra meravigliosa, con dei valori che ci possono contraddistinguere, come per il passato. Perché non è un caso che nel passato Augusto ha deciso di costruire con Agrippa una cosa così meravigliosa. Non è un caso che un santo come Moscati ha origine. Quindi noi, e chiedo soprattutto ai giorni, non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete. Voi dovete essere fieri delle vostre origini, orgogliosi e dovete sognare, ma soprattutto non vi dovete lasciare incantare, perché il vero valore aggiunto lo portate dentro di voi. Voi siete l'espressione di un patrimonio meraviglioso, di cui non fate altro che in questo momento, a piccoli passi, perché dovete avere la capacità e l'equilibrio di rappresentarlo, con lo studio e con il sacrificio. Perché senza sacrificio e senza studio nulla si ottiene. Quindi io chiedo ai giovani di avere fiducia, di avere fiducia, ma soprattutto in se stessi. La sfida si fa innanzitutto con il proprio io. Voi lo valorizzate, noi staremo vicini. Io voglio creare una scuola di formazione, perché soprattutto quello, come diceva, ritorno sempre a Moscato. La sofferenza di un corpo non è altro che, come di, un grido di un'anima. Innanzitutto dobbiamo ricostruire il benessere interiore. E da lì si vince. Si vince e il mondo sicuramente sarà molto più bello. Ringraziamo Ottaviano Vistocco, candidato sindaco a Santa Lucia di Serino e un saluto ai nostri telespettatori. Grazie a voi.